Cristian Totti, il figlio di Francesco, sarebbe molto vicino all'addio alle giovanini nella Roma. Il famoso figlio infatti dell'ex capitano Giallorosso starebbe valutando insieme all'amato padre e anche alla dirigenza della Roma l'eventualità di cambiare squadra per trovare più spazio ed avere quindi una più forte, più consolidata continuità. Cristian sarebbe molto vicino al trasferimento al Frosinone dove andrebbe a guarnire meglio la rosa della primavera guidata da Bon Gorgone. Quindi diciamo che la Roma andrebbe a perdere o meglio avrebbe una fine di un'era che è durata moltissimi anni a questa parte. Beh, sarà vero, sarà falso, potrebbe arrivare al Frosinone. Le voci sono state diffuse nel web e non solo, anche nella carta stampata. Sembrerebbe proprio che si stia valutando, si sta valutando l'eventualità che Cristian Totti vada al Frosinone. Ognuno è libero di pensare a ciò che vuole, il video termina qua. Iscrivetevi al mio canale di Youtube, Naratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un caro salutone a voi. Questo video non vuole vedere la parapsi di Cristian Totti né di Francesco, ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao a tutti. Grazie a tutti.